Intensa giornata di incontri istituzionali a Palermo per il Movimento dei Giovani Lavoratori che rappresenta i precari degli enti locali. Le riunioni sono servite a strappare certezze per la conferma dei rapporti di lavoro in scadenza al 31 dicembre, con particolare riferimento a quelli del personale in servizio presso enti in condizione di dissesto e predissesto. Due gli incontri di rilievo, quello con l'On. Greco, Presidente della Quinta Commissione Parlamentare, e quello con Rosario Crocetta, Presidente della Regione. Con l'emendamento alla legge di stabilità nazionale, il Parlamento autorizza infatti in derogo alla conferma dei contratti in scadenza al 31 dicembre 2015 per un altro anno, compresi quelli del personale in forza agli enti che vengono a trovarsi in condizione di dissesto e predissesto, una norma che scongiura di fatto la risoluzione di circa 2.000 contratti. Limitatamente agli enti che si trovano in dissesto e predissesto, le amministrazioni interessate saranno destinatari ed appositi a disposizione regionale, che l'assessorato regionale alle autonomie locali porterà a definizione nel corso della conferenza Regione Autonomie Locali nella giornata di martedì 29 dicembre, con l'approvazione del piano di riparto delle somme complessivamente quantificate, in circa 81 milioni di euro da assegnare. Questa somma consentirà di autorizzare la prosecuzione delle attività di tutto il personale per tre mesi, in attesa dell'approvazione della legge finanziaria e del bilancio regionale che poi permetterà la totale copertura per il 2016. Relativamente agli altri enti, la pubblicazione in gazzetta della legge di stabilità nazionale consentirà invece l'adozione delle delibere di prosecuzione senza assoluzione di continuità sino al 31 dicembre 2016.